Tessisco ragazzi Che partita Allo stadio del Cagliari La Domus Arena Rimonta clamorosa ragazzi La partita più bella Quest'anno in Serie A Cagliari-Frosinone Da 0-3-Frosinone A 4-3 Gli ultimi 20 minuti ragazzi Al 71 Stava 3-0-Frosinone Al 96 4-3-Cagliari Uno guarda ragazzi Che non segna mai Uno guarda che ha fatto 3 gol in gabionato Ne ha fatti 4 In una partita Con un cuore gigante Con ragazzi Con Ragnini Che ha fatto la differenza Con i cambi Ha fatti i cambi ragazzi 3 E 3 gol sono arrivati Da 3 giocatori Che hanno fatti i cambi Ragazzi Pavoletti Strepitoso Pavoletti Giocatore ragazzi Veramente Da ammirare Per l'attacca che ha Perché ragazzi Mette il cuore Abbiamo visto che Su gol 2-3-3 Ha fatto un risultato incredibile Ha veramente trascinato i suoi I suoi primi due gol in Serie A Al 94-96 Ha veramente Qualcosa di Di scatto Di passesco ragazzi Arachiri assurdo Del fruginone Di Francesco Che ragazzi Però ho sbagliato Sul 3-0 Non puoi permetterti Di accontentarti così Ragazzi Di prendere 4 gol dal Cagliari Con tutto rispetto Ma ragazzi Mi ha fatto veramente Una follia assoluta Il fruginone Perché Questa partita ragazzi L'ha vinta C'è poco da fare Poco da dire Nel calcio Non si sa Non si sa mai Però ragazzi Non si può Il fruginone che ha Stradominato Ragazzi forse anche 5-3 Vediamo un attimo qui Controvedere il Cagliari No Ha sempre dato un gol pazzesco Vabbè Comunque Non ci siamo Non ci siamo Un sull'est repitoso Che nel primo tempo Ragazzi è 300 giocati Con una doppietta incredibile Mancoso Che sul 1-0 Sbaglia il rigore Mancoso Ragazzi che non ha mai giocato La prima titolata Quest'anno Su comunque Una gran fiducia di Laniere Ma fiducia Totalmente inappagata E Di Francesco Ragazzi non ci poteva credere Anche sul 3-3 Non ci poteva credere Poi sul 4-3 Poi è ancora peggio Ragazzi Incredibile I gol Poi per fare gol Brescianina In questo primo tempo Il 3-3 è finita Poi ragazzi A settantesimo Entra un oristagno Pavorite La partita cambia Gol ragazzi di oristagno Prima 1-3 A settantunesimo Bravissimo ragazzi A prendere palla Sulla corsa di destra Tira col bancino A giro Su seconda palla Fa un bellissimo gol Ce li ha questi colpi E' veramente un bel bel giocatore Questo ragazzo Lanciato da Ragnieri Comunque Poi Ragazzi Il Cari comunque Prende il filo Prende il filo Tretto manca il gol 2-3 Errore pazzesco Ragazzi Di impostazione di Baranerci Che lì ragazzi Si incazza con Brescianini Lì Baranerci Non gli può dare un passaggio In orizzontale così Viste che se l'uomo Attaccato alla schiena Dall'esterno la palla Cosa la dai lì Per riscaldare Per perdere il pallone Sul 1-3 Perde palla Infatti Macumbu Antissimo Brescianini Va in porta da solito Con il destra giro Ragazzi Fa gol 2-3 Gli ho detto Il pareggio lo fa in sicuro Infatti ragazzi Finale folle Ci prova Il calcio di rigore Poi l'avvocato al Cagliari Per il fallo di Turati Giusto Perché ha perso Assolutamente la palla a Turati Poi ragazzi Pazzesco finale Finale scandaloso 7 minuti di recupero Prima ragazzi Vette pallone in mezzo Nicola Sviola Stacco di Pavoletti Al 94esimo Gol bellissimo Ragazzi Romagnoli Se lo perde assolutamente Marcatura blanda Ragazzi Non può essere Pavoletti In ala di rigore Da solo di testa Perché è una sentenza Gol all'incrocio Imprenibile per Turati Poi ragazzi Altra occasione Il fallo di Oiono Su Ristagno Ragazzi Calcio di posizione Mi sembra sì Sul caso di posizione Battuto Mi sembra se prenda Nicola Sviola Dossena di testa Dossena che ha fatto Una partitaccia Ragazzi Giusto decisivo Nella vittoria Stacco di Dossena Di sponda Per Pavoletti Che è in posizione Millimetrica Ma è regolare Perché lo tiene in posizione Regolare Mi sembra Marchizza Destro ragazzi Di Pavoletti Un po' sporco Turati La respinge In qualche modo Poi lo sbatto sulla traversa E poi ragazzi Si infile in rete Gol convalidato C'è però anche la fine Fusione Perché ha avuto Una grande occasione Nel finale Con lo stacco Di Diocoli Pallone salvato Allunghera Scuffette Però ragazzi E' una rimonta Pazzesca Una rimonta Che resta Nella storia Del calcio Sì italiano Sì italiano Che non Perché veramente Un'impresa Un'impresa Dei Sardi Con il cuore Con grinta Hanno dato la loro Prima vittoria In Serie A Questo ragazzi Vi vedete Cosa ne pensate Un vostro Pesino Nel prossimo Video